Il Marvel Cinematic Universe è ormai un colosso dell'intrattenimento globale, ma non sono sempre state rose e fiori nella cassa delle idee sul grande schermo. Anzi, dietro le quinte nel corso degli ultimi 12 anni ci sono spesso state incomprensioni e divergenze artistiche più o meno evidenti. E allora? Ecco a voi 10 attori e o registi che hanno avuto qualche tipo di dissaccordo con i produttori di Iron Man, di Avengers e compagnia bella. Ma prima di continuare vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e ad attivare la campanella delle notifiche per non perdervi nessuna novità targata Movie Player. Col senno di poi bisognava aspettarselo, dato che Norton ha un carattere notoriamente difficile sui set di film più commerciali, che lui ammette candidamente di aver girato solo per potersi permettere dei progetti più personali e meno redditizi a livello finanziario. Nel caso dell'incredibile Hulk sembrava che le cose potessero andare per il verso giusto, essendo l'attore un fan del personaggio e della Marvel in generale. Ma anche in tale sede, la situazione deteriorò rapidamente, con Norton che riscrisse praticamente tutta la sceneggiatura senza consultarsi con Zach Penn, e litigò con la Marvel Universal sul montaggio finale del film, dal quale lui si distanziò rifiutando di partecipare al tour promozionale. Uno dei suoi presunti capricci fu però un vantaggio per la casa delle idee. L'attore avrebbe rifiutato di firmare un contratto a lungo termine, il che facilitò la sua sostituzione da The Avengers in poi. Oggi può risultare sorprendente, ma all'epoca del primo Iron Man, l'attore più pagato era Howard. Reduce da una nomination all'Oscar per Astle and Flow, è considerato una delle nuove star più promettenti di allora, mentre Robert Downey Jr., talmente indesiderato che persino la Marvel esitò a scritturarlo all'inizio, era ancora lontano dai compensi che riceve oggi, grazie a un contratto che gli dà anche una percentuale degli incassi. Per Iron Man 2 si decise quindi di ridimensionare il contratto di Howard, dato che non era lui la presenza più importante nelle franchise. L'attore preferì non tornare nei panni di War Machine. Oggi il diretto interessato sostiene di essere stato tradito da Downey Jr., dopo averlo aiutato ad ottenere il ruolo di Tony Stark. Ma ci sono voci di corridoio su un'altra motivazione dietro l'allontanamento di Howard dall'MCU. Il regista John Favreau faticava ad andare d'accordo con lui. Come Norton, anche Roor, che è noto per quello che lui stesso definisce un caratteraccio. Ma in questo caso specifico, il suo astio nei confronti della Marvel non è del tutto ingiustificato, ammesso che lui dica il vero sulla presenza in Iron Man 2 del suo personaggio Ivan Vanko, alias Whiplash. Stando a Roor, infatti gran parte del materiale in cui appare Ivan sarebbe stato rimosso dal montaggio finale, riducendo il villain a una macchietta. Per fortuna, nel suo caso, non era previsto un ritorno del personaggio, che salta in aria durante lo scontro finale ed è citato dai detrattori del franchise come uno degli esempi più evidenti dei cattivi deludenti della Marvel. L'attore australiano non è famoso per il suo tatto in sede di interviste, motivo per cui fu estromesso dalla saga dei Transformers dove, dal 2007 al 2011, aveva prestato la voce al perfido Megatron. È in circostanze simili che le interpreti di Teschio Rosso in Capitan America, il primo vendicatore, ha ammesso di essere sotto contratto per più di un film ma di non avere voglia di tornare, principalmente perché ritereva di aver dato tutto nei panni del personaggio la prima volta e non amava particolarmente il trucco necessario per tramutarlo nel villain. Detto, fatto. Per il cameo del Teschio in Infinity War è stato reclutato un altro attore, Ross Markwand. Il regista di Monster, attualmente in casa DC Comics con Wonder Woman e il prossimo Wonder Woman 2, era stata inizialmente reclutata dalla Marvel per realizzare Thor The Dark World. Confermata nell'ottobre del 2011, la cineasta ha ufficialmente lasciato il progetto due mesi dopo a causa di divergenze creative, precisando però che la separazione era amichevole e che non le dispiacerebbe girare un altro film Marvel in futuro. Nella fattispecie, la divergenza riguardava la trama del film. Jenkins voleva rendere Thor e Jane Foster l'equivalente supereroistico di Romeo e Giulietta, con Jane in difficoltà sulla Terra e Thor bloccato su Asgard su ordine del padre Odino. La separazione artistica tra la casa delle idee e Patty Jenkins ha influito in negativo sul rapporto con la Portman, principalmente sostenitrice della regista e di suo poco entusiasta dei contratti a lungo termine. Dopo l'uscita di The Dark World, lei ha pubblicamente dichiarato di essere ancora sotto contratto e disposta a tornare se necessario, ma è difficile pensare che non ci sia stata una qualche rottura sul piano umano, alla luce della decisione di troncare la relazione tra Thor e Jane, senza mostrarceli un'ultima volta insieme. A sostituire Jenkins fu convocato Taylor, noto per le sue regie televisive in generale ed è il trono di spade in particolare. Durante le riprese non sono stati riportati problemi particolari, ma il cineasta sostiene che il film sia stato completamente modificato in post-produzione, complici i reshoots, per renderlo più leggero e aumentare la presenza di Tom Middleston nei panni di Loki. Taylor ha quindi dichiarato di non voler mai rivivere un'esperienza simile, dove la sua libertà creativa era altalenante. Va anche detto che se nessuno ha messo becco sulle sue scelte registiche e di montaggio per Terminator Genisys, forse aveva ragione la Marvel. Parlando di incomprensioni, litigi e rotture, il caso più clamoroso è certamente quello di James Gunn. L'autore è capace di sdoganare i guardiani della galassia agli occhi del grande pubblico, grazie a due film decisamente molto riusciti e apprezzati. Nel 2018, infatti, il regista statunitense fu licenziato in tronco dalla Disney per colpa di alcuni vecchi tweet scritti dieci anni prima. Messaggi che ironizzavano con molto black humor su temi delicati come l'omosessualità, l'olocausto, la pedofilia, l'11 settembre e l'AIDS. Due anni dopo Alan Horn, presidente di Walt Disney Studios, dichiarò. Gli atteggiamenti offensivi e le affermazioni scoperte sul feed Twitter di James sono indifendibili e incoerenti con i valori del nostro studio e abbiamo interrotto i nostri rapporti commerciali con lui. Gunn si scusò pubblicamente dicendo che le sue parole di tanti anni prima erano solo dei tentativi infelici e completamente falliti di essere provocatorio. Pentito per quei messaggi stupidi e per niente divertenti, Gunn ebbe anche l'appoggio di molti attori del cast di Guardiani della Galassia, con Chris Pratt e Dave Bautista pronti a difenderlo a spada tratta con messaggi e petizioni. Mesi dopo Gunn e Alan Horn si sono incontrati si sono chiariti, cosa che portò al ritorno del regista al timone di Guardiani della Galassia volume 3, ma non prima di aver girato The Suicide Squad per la distinta concorrenza. Un reintegro di cui, ovviamente, siamo solo contenti perché senza James Gunn, i Guardiani della Galassia non sarebbero i Guardiani della Galassia. Qui abbiamo a che fare con un caso ibrido, poiché la rottura per quanto brutta e clamorosa ai tempi non è stata definitiva. Widon, dopo aver sostanzialmente vissuto e respirato Marvel per tre anni, ha raggiunto il punto di non ritorno durante la post-produzione di Avengers Age of Ultron. Litigando con le alte sfere della Marvel, Pearl Matter e il comitato creativo per un paio di scene in particolare. Il regista ha pertanto rinunciato a Infinity War e deciso di prendersi una pausa dei blockbuster, ribadendo però in alcune occasioni di essere disposto a tornare per un singolo film, senza impegni più vasti. Oggi, con Pearl Matter e il comitato fuori dai giochi, è nuovamente una presenza fissa alle prime mondiali dei vari film. Di tutti gli esempi, questo è tuttora il più doloroso. Legato a What If. Clamoroso e affascinante, e se Ant-Man fosse stato girato dal regista di Hot Fats e l'Alba dei Morti Dementi? Wright era effettivamente uno dei collaboratori più longevi dell'MCU. Recrutato nel 2006 per lavorare al film che inizialmente doveva uscire nel 2012, è rimasto a bordo fino al 2014, quando, a pochi mesi dall'inizio delle riprese, abbandonò il progetto per divergenze creative, tra cui dei contributi esterni alla sceneggiatura. Rimane menzionato nei credits come produttore esecutivo e co-sceneggiatore, ma non ha mai visto né il film né il trailer, per un motivo abbastanza condivisibile. È come se mi chiedessero di guardare mentre la mia ex fa sesso con un altro. E voi? Conoscevate tutti questi retroscena oscuri legati al Marvel Cinematic Universe? Fateci sapere la vostra nei commenti!